Andria Biceglie è ritorno. Nel suo girovagare nel mondo del calcio pugliese, Nicola Canonico potrebbe tornare lì dove era già stato quattro anni fa. Per il momento si tratta di una ipotesi, anche se i tanti indizi, compreso un presunto incontro tra gli attuali dirigenti e l'ex presidente del Biceglie, porterebbero a pensare che il progetto potrebbe concretizzarsi. Del resto i soci dell'Andria, subito dopo la promozione in Serie D, avevano aperto le porte a possibili nuovi ingressi, proprio perché il quarto campionato nazionale richiede un maggiore impegno economico. C'erano stati tra aprile e maggio sondaggi informali anche con Antonio Flora, che però ha rilanciato il progetto a Brindisi. Nei giorni scorsi invece era arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio di Canonico che lasciava il Biceglie Calcio nelle mani del sindaco. Mossa non del tutto sorprendente, visto che l'ex presidente si era defilato senza comunicazioni ufficiali, puntando anche all'acquisizione del Bari in occasione della staffa alimentare, poi vinta da Gianluca Paparesta. Si pensava che Canonico potesse concedersi un anno sabbatico, invece il suo nome è sempre più associato all'Andria della prossima stagione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire come e con quali ruoli Canonico entrerà nella compagine societaria azzurra e se anche sul piano tecnico si dovrà resettare tutto. Un dato certo è che Nicola Canonico è stato il presidente del Biceglie che con Nicola Ragno vinse la Coppa Italia d'eccellenza conquistando la promozione in Serie D, anche se nella stagione successiva le strade dei due, Canonico e Ragno, si divisero per i risultati non soddisfacenti nella seconda parte di quel campionato. Un binomio che potrebbe ricomporsi ad Andria.